Elia Casati, Altatami 1, Tadami 4, incontro di finale per Tecolia Sena e una stile fino a 73 kg, Gallonetto a Noritro, Emi Mihai. Altatami 1, si preparino, Gallegati Gregorio, Discafano, Alessandro per l'incontro di finale, primo secondo posto. Il nostro concetto è un concetto di finale per Tecolia Sena e una stile fino a 53 kg, si preparino, Gelozzi, Gelozzi, Alessandro per l'incontro di finale, Vincenzo a Lorenzo, si classifica a terzo posto. Sultatami in categoria junior, maschile, meno 100 kg, nostardi, marmel, verbi, bianco. Sultatami 3 si prepara in categoria 57 kg, Picozzo, Laeria, Calpeo, Martina, per il terzo quinto posto. Sultatami 1 si prepara in parisi francesco, rossa mattina, per il proprio finale, terzo quinto posto. Sulta tienes reso, laia, calcare, fino a te, laia e cittadina, per il 경illo Dependenti Mato, Martino e per il perfilamento. Sultatami 4 si prepara, Raff istana, Almeni Venedì. Vince Proосто No. Sultatami 2 si prepara in parisi francesco, pálises francesco, yuridina, pedesia, laiova di grande varia. Sultatami 3 si prepara in parisi francesco, f nehme, confidence, f apostle, Mato Venedì Slaughter, Non in attacco, in attesa, ok? Non in attacco. Non da fermo. Non da fermo. In attività di unione, 73 kg al podio. Unione, 73 kg al podio. Unione, 73 kg al podio. Ehi! Signore! Andai! Guarda! Andai! Adesso muovi con i piedi. Vai giù! Guarda! Vai giù! Ma non subito! Movimento! Dice il bernio. Alcina, alcina, alcina! Sì! 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 Come stai si preparino Rodini, Alex, Castellani e Mattia, cabellini fino al volante di Obrami. Vince Eli Pekuai, la situazione di qua al primo posto. Se mi stai a fare il sangue si casina al primo posto.